Ponte degli Alpini chiuso i giorni 13, 14, 15 gennaio dalle 8 alle 17. Bene, oggi è il 13 gennaio, sono le 12 e 25 e guardate un po', il ponte è aperto. Insomma, le notizie che sono arrivate dal Palazzo Municipale di Via Matteotti che noi vi abbiamo riportato nei nostri telegiornali non corrispondono a quanto sta accadendo e senz'altro molte persone si sono adoperate, hanno fatto in modo di organizzarsi per evitare di passare proprio sul ponte perché è stato detto in più occasioni che è chiuso da oggi fino al 15. Ponte è aperto, abbiamo chiesto chiaramente, ci è stato detto che siccome la ditta, la inco di Pergine e Valsugana che sta eseguendo i lavori proprio sul ponte è riuscita a organizzarsi per evitare la chiusura allora hanno deciso di tenerlo aperto e semmai chiuderlo nel pomeriggio. Bene, noi allora torneremo nel pomeriggio e vedremo se il ponte sarà effettivamente chiuso o meno, insomma vi faremo senz'altro sapere. Passano le ore e quindi sono quasi le 5, come è promesso questa mattina siamo tornati sul ponte vecchio e come vedete è aperto. Nonostante il cartello segni 13, 14 e 15 gennaio dalle 8 alle 17, la chiusura per lavori appunto di sistemazione e restauro. Eh beh, il ponte è aperto e chi si è organizzato anche per lavoro, ma non solo, perché appunto sapeva dal comune, sapeva dagli organi di informazione che il ponte in questi tre giorni era chiuso, che dire? Già, che dire? Non vogliamo essere i soliti guastafeste, quelli per cui non va mai bene niente. Il ponte doveva essere chiuso, invece no. Ma Sindaca Pavane Company sono capaci di mantenere almeno una volta quello che dicono, perché qui di certo ci sono solo incertezza e confusione.